La promozione del Gela in Serie D conquistata domenica scorsa dinanzi ad un pubblico che non ha uguali rappresenta tantissimo per l'intera collettività locale. Non c'è soltanto l'aspetto sportivo da evidenziare, c'è dell'altro. Sì, perché lo sport, ma soprattutto il calcio, funge da traino per tutto. E per Gela, in un momento negativo in ambito occupazionale, la domenica allo stadio rappresenta una vera e propria valvola di sfogo. Se poi, così come è accaduto per il club biancazzurro, arriva anche la promozione, l'entusiasmo è irrefrenabile. Domenica al Vincenzo Presti abbiamo visto uomini, donne, ragazzini, intere famiglie, tifare per la squadra della propria città. E la maggior parte indossava la maglia del Gela, perché il Gela è la squadra del cuore e la si ama fino in fondo. Dicevamo di cosa rappresenta il movimento sportivo, un volano per tutto e tutti. Bisogna solo crederci fino in fondo. Con lo sport, oltre ai tesserati, ci lavorano anche quelli che fanno parte dell'indotto. Dunque parliamo di coloro i quali vendono cappellini, magliette, sciarpe, bandiere. Allora aggiungiamo anche chi si ad opera per la vendita di gelati, snack e caffè. È tutto un insieme. Per un attimo adesso immaginiamo cosa accadrà il prossimo futuro. Stiamo parlando di sredì, cioè dire ad un passo dal professionismo. Si giocherà contro squadre che rappresentano capoluoghi di provincia che hanno un glorioso passato alle spalle. Da quelle città arriveranno a Gela tantissimi tifosi e finalmente la gradinata si riempirà. Quest'anno solo in pochissime occasioni abbiamo visto supporters delle squadre avversarie contati sulle dita di una mano. Poi la desolazione. E arrivando a Gela i tifosi a Gela spenderanno e l'economia potrà respirare. Una goccia in un oceano potrebbe rimarcare qualcuno. Ma intanto l'importante è cominciare. Ma come ha detto il presidente della società Bianca Azzurra, Angelo Tuccio, al termine della gara di domenica scorsa bisogna programmare. L'improvvisazione serve a poco e bisogna lavorare soprattutto in ambito strutturale. E quando si parla di strutture il riferimento è al campo. Più accogliente è, più prevale la voglia di andarci. In settimana faremo una conferenza stampa per dire la nostra su alcune cose che non vanno come giusto che sia. Per dire la nostra su quello che ci vuole per migliorare le strutture sportive e tutto ciò che ruota attorno al calcio in questa città. Perché è chiaro che vogliamo andare avanti. Tutto questo non vuole che crescere, non vuole che migliorare. Come ho detto io ritengo che il Gela calcio e il calcio debbano rappresentare una punta di diamante per questa città. Tutto il resto si deve fare, si deve ricostruire. Non dimentichiamo che abbiamo vissuto e stiamo vivendo gli anni peggiori della nostra storia. Noi vogliamo essere la nota positiva, appunto quella punta di diamante che trascina il resto verso lì di migliori se è possibile.